Il Signore faccia splendere su di voi il suo volto e vi doni la sua pace e la sua benedizione. Mostri la sua faccia e vi doni la sua misericordia e la sua pace. Credo che non ci sia augurio più bello per darvi il mio buon anno dal profondo del cuore. E benvenuti a Convoi insieme nella fede in questa puntata tutta speciale ma arriveremo tra poco. Innanzitutto voglio ringraziarvi per i consensi, per gli auguri. Anche camminando per strada incontro tanta gente che mi ferma e dice che è bello poter vivere con voi. Questa bella esperienza, questo viaggio, questa condivisione. Sì perché è questa la nostra trasmissione. Viaggio, condivisione, fraternità, essere vicini. Anche se abbiamo l'unico limite che è quello dello schermo. Però perlomeno è una finestra che si apre per entrare nelle vostre case. E allora ancora buon anno dal profondo del cuore. Non solo da parte mia ma da parte di tutta la grande famiglia di Antenna Sud. A voi che ci seguite, che mi seguite e che condividiamo insieme questo percorso. E allora subito le intenzioni di preghiera. Ovviamente apriamo questa parentesi con un abbraccio a tutti coloro che stanno vivendo ancora il disagio del contagio da questa pandemia. Per cui innanzitutto davvero un abbraccio di cuore a tutti voi cari fratelli e sorelle che siete purtroppo costretti a stare a casa perché purtroppo siete positivi. Ecco ma noi vogliamo essere positivi in un'altra maniera e quindi vi propongo di pregare per Stefania, per Gennaro, per Luciano, Laura, per Zoe e poi per la conversione dei cuori. Poi c'è Domenico che chiede di pregare per tutti gli ammalati in modo particolare per i più piccoli e per i più indifesi. Poi preghiamo ancora per Domenico volato in cielo prematuramente per Aurelia la Sorsa, per Giovanni la Ruccia, per l'intera nazione perché Gesù Bambino così come ci viene proposto in questa intenzione di preghiera protegga la nostra Italia da questa pandemia. Preghiamo ancora per i più fragili, i più fragili della società che sono le persone sole, le persone senza tetto, le persone fragili davvero. Poi un saluto a Vito la Sorsa che tra l'altro mi porta tante intenzioni di preghiera, prego per lui, per i suoi defunti, per le sue intenzioni di preghiera e per tanti che si rivolgono a lui per inviare a noi la proposta delle intenzioni che sto condividendo anche con voi. E poi un saluto particolarissimo, l'ho sentita la sera del giorno di Natale, per Kella di Santa Chiara, una nostra carissima amica e quindi nella sua persona. Saluto tutti i nostri ascoltatori, soprattutto della città vecchia di Bari, che so che sono tanti, ma comunque in queste persone un caro saluto e un abbraccio virtualissimo con la speranza di potercelo dare sul serio a tutti i nostri cari ascoltatori e telespettatori. Allora, diamo inizio alla puntata del nuovo anno e non lo possiamo fare che se non con la buona notizia, con la pagina del Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne fra i Suoi e i Suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto? Ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel Suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la Sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama Dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito, che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. E quest'oggi non diamo il benvenuto a nessuno, no, scherzo. Sono io che in punta di piedi, ecco, mi permetto di spezzare la parola e condividere la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato. È un brano bellissimo, soprattutto la prima parte, il verbo che si fa carne. Quasi a dire che la parola può essere credibile nella misura in cui noi diamo carne a quello che diciamo. Tanti di noi si professano cristiani, ma spesso quello che diciamo non corrisponde a quello che facciamo. Per cui il verbo di quello che noi diciamo si deve necessariamente trasformare in quella carne che è la testimonianza viva, concreta, del nostro amore per Gesù Cristo. Certo, la parola di Dio si è fatta carne nella persona di Gesù e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Questo è il messaggio più bello. È un messaggio meraviglioso perché Gesù è in mezzo a noi. Ve lo dissi la volta scorsa, non lo dobbiamo cercare, ma lo dobbiamo accogliere perché Lui dimora in mezzo a noi, è con noi, sta con noi. Ma dobbiamo far sì che la sua opera continui e sia viva e operosa attraverso la nostra testimonianza. Siamo noi chiamati a rendere concreto il Vangelo. Spesso tanti dicono io sono cristiano, ma siamo realmente cristiani. Noi abbiamo pregato anche la giornata della pace. Di solito la fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno si prega per la pace. Bene, dobbiamo essere operatori di pace. Quanti di noi in questi giorni, non so, hanno telefonato ad una persona con cui i rapporti non erano proprio del tutto distesi? Oppure si sono fatti portatori di una carezza, anche virtuale, a una persona sola, ammalata? Ecco, questo si deve concretizzare. Guardate, non c'è bisogno di fare cose eclatanti. C'era qualcuno che diceva non c'è bisogno di fare cose straordinarie, ma straordinariamente bene le piccole cose di ogni giorno. Credo che questo sia, ecco, il programma di vita più bello per un nuovo anno che si apre davanti a noi. E come dico sempre, ogni cosa nuova che il Signore ci offre è un'opportunità. Anche un anno nuovo è un'opportunità che ci si apre proprio perché siamo chiamati a rispondere e a corrispondere a questo amore infinito che il Signore ha verso di noi. E poi, ecco, un riferimento anche alla benedizione che ho fatto a tutti voi all'inizio di questa trasmissione, di questa puntata speciale, chiamiamola così, con voi capodanno. Perché il Signore rivela a noi il suo volto e quando parliamo di volti ormai pensiamo ai volti segnati da queste mascherine che sono necessarie, ma che hanno fatto perdere un po' il senso dell'identità. Perché ogni volto è una persona, è una storia, è un'identità. Ebbene, almeno il volto di Dio rivelato in Gesù Cristo sia per noi quel volto limpido, luminoso, che ci incoraggia e ci dona la vita nuova. E allora, in questa puntata di Capodanno facciamo così una carrellata, sì, perché ci siamo resi conto che ogni ospite, ogni persona che abbiamo incontrato è stato veramente un dono. Siamo noi che ci siamo arricchiti. Guardate anche noi in studio, le viviamo con un pathos, con una passione, questi incontri davvero incredibili, perché sono doni forti che il Signore ci offre, proprio attraverso le persone che abbiamo incontrato. E allora faremo un piccolo percorso. Un po' questa puntata fa da cerniera alle puntate precedenti dello scorso 2021, proiettate verso le nuove puntate che, come vi dicevo la volta scorsa, riprenderanno sabato 8 gennaio. E quindi questo momento di unione tra il vecchio e il nuovo, ecco, si presenta a voi ricordando i momenti, alcuni dei momenti più belli, perché ogni puntata e ogni diretta che abbiamo vissuto, come quella che sto vivendo con voi, è un dono del cielo. E allora voglio essere con voi presente attraverso quello che ho vissuto e che abbiamo vissuto insieme. Continuiamo questo cammino in cui chiediamo al Signore che possa fasciare le piaghe dei cuori feriti, spezzati, appesantiti dalla sofferenza, attraverso quello che noi, nella nostra buona fede, facciamo per voi e viviamo con voi. Vi ricordo, con voi, chiocciola antennasud.com, se volete scrivere, se volete fare proposte, se volete essere presenti qui, portando, ecco, qualcosa di vostro legato alle tradizioni delle vostre città, dei vostri paesi, portando la vostra testimonianza. E allora buon viaggio e, come dico sempre, allacciate le cinture di sicurezza perché si vola, si vola con voi. A presto. E allora vedete, ho tra le mani, vi ricordate la volta scorsa avevo un grappoletto d'uva, questa volta ho tra le mani uno spicchio, diciamo così, di melograno. E vedete, all'interno del melograno ci sono tanti chicchi. Da sempre il melograno è stato il simbolo della Chiesa unita, quasi come se fosse l'icona di questo sinodo che stiamo per vivere. E allora do il benvenuto a Suor Rosa Ricci, al nostro Gianvito Sardone, il nostro fiorista, che oggi ci propone appunto una composizione che ha per soggetto il melograno. E mentre Gianvito si industria e inizia a creare questa piccola opera d'arte, che potrebbe essere anche di ispirazione per voi, che la potete anche preparare per le vostre parrocchie, proprio all'inizio di questo cammino sinodale, Suor Rosa, vogliamo parlare del melograno? Parliamo del melograno. Allora, già qualcosa giustamente dicevi a proposito del simbolo della Chiesa. Comunque, se consideriamo il melograno all'interno della Bibbia, così come anche in tante civiltà antiche, il melograno è sempre simbolo della bellezza, della fertilità, della ricchezza della terra e della benedizione di Dio. E' uno dei frutti, dicevamo la volta scorsa, insieme all'uva e ai fichi che gli esploratori, i dodici esploratori, hanno riportato a Mosè tornando dalla terra promessa, dopo averla attraversata e perlustrata. Quindi già è un segno della fedeltà di Dio che ha promesso una terra fertile di frutti abbondanti. Infatti il melograno è un frutto molto presente in Palestina. E quindi era attendibile quello che Dio aveva detto. Questa terra era davvero fertile. Quindi il melograno è uno di questi frutti. E' inoltre anche simbolo della benedizione di Dio all'interno dell'alleanza. Vediamo anche che sull'orlo della veste del sommo sacerdote, come ci ricorda ancora la scrittura, c'erano tanti frutti di melograno insieme a dei campanellini. E il sommo sacerdote, quando andava ad ufficiare nel Tempio per l'offerta dell'incenso, era il ricordo proprio della comunità che portava davanti al Signore. Quindi non andava da solo, ma con tutta la comunità. Certo. Sto vedendo Gianvito che sta maneggiando delle foglie che hanno i colori dell'autunno proprio. Allora ci vuoi dire innanzitutto quali sono queste foglie e come si chiamano? Allora Don Mimmo, queste sono foglie di faggio, colorate artificialmente, però sono naturali le foglie. Delle eucalipto, foglie di eucalipto. E pian piano vedremo... Andiamo a inserire i fiori, sì, sì. Con del melograno. Allora, suor Rosa, torniamo al melograno. Andiamo avanti. Esiste anche nell'arte la raffigurazione del melograno. Soprattutto nel Medioevo è stato ripreso nell'arte, soprattutto in mano a Gesù Bambino come simbolo della passione. Infatti a tal proposito dovremmo avere anche un'immagine di questa Madonna con Gesù Bambino che ha tra le mani il frutto del melograno. Ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo... Eccolo, eccolo, Gesù Bambino. Io forse mi devo spostare, eccolo, vedete? Gesù Bambino ha proprio tra le mani un melograno. E questo la dice molto sulla simbologia di cui oggi stiamo parlando. Suor Rosa. Sì, qui anche in mano a Maria, sempre nell'arte in mano a Maria indicava la castità, quindi sembra quasi in contraddizione con il discorso del melograno che in genere indica la fertilità, la fecondità, proprio per la molteplicità dei semi. In realtà non è proprio in contraddizione perché c'è una vera fecondità, no? Come ci ricordava anche il nostro vescovo nel nostro ritiro di domenica scorsa. Presuppone un cuore vergine, no? Un cuore capace di accogliere. Quindi un cuore disponibile al dono di Dio, alla novità di Dio, all'inedito di Dio, no? E quindi non è in contraddizione. Poi mi fa pensare anche la forma del melograno, no? Ha comunque una buccia dura e questa buccia è concava, no? Quindi questa forma permette di accogliere e custodire, no? Anche questa scorza dura, i molteplici semi che ne fanno parte. E possiamo dire che all'interno di quel frutto con la scorza dura c'è ciascuno di noi. Perché noi siamo la Chiesa. E certo, siamo custoditi, no? Siamo custoditi in questo frutto. Perché la bellezza di questo frutto è proprio questo. Cioè che nella sua, appunto, per così come è fatto, ha, possiamo dire, un'iconografia molto forte. Proprio perché ci rappresenta. Sì, quindi ognuno di noi, quindi insieme, no? Uniti insieme. Quindi la comunità fatta di molteplici semi, quindi anche di molti di noi. Però anche, volevo sottolineare anche il discorso della, sì, dell'essere insieme all'interno, no? Di questa, del saper stare insieme. Ognuno c'è comunque il suo spazio all'interno, no? Di questa, di questa scorza. Ed è interessante vedere come anche il Vescovo ce lo ricordava. Nella Chiesa è importante che ognuno trovi il suo spazio. Questo spazio che ci vede impegnati in prima persona. Quindi che ognuno prende la sua responsabilità. Che ognuno parta da sé anche in un cammino di cambiamento. Per poter poi anche dare il contributo a tutta la Chiesa. Gianvito, allora tu piano piano stai realizzando anche stavolta un'opera d'arte. Allora, ci vuoi dire i passaggi adesso che stai percorrendo? Magari se può essere inquadrata la composizione che stai realizzando. Via via poi la giri e la fai vedere. Vediamo un po'. Allora, come abbiamo fatto anche la volta scorsa, abbiamo inserito del verde. Sì. Adesso stiamo inserendo i fiori, abbiamo inserito il melograno a spicchi. E niente, adesso dobbiamo completarla. Vedo dei ciuffetti che sembrano come delle piume. Che cosa sono? È un verde, diciamo, nostro, locale. Il pennisetum si chiama, si trova anche nei campi, perciò facile da trovare, anzi, a costo zero. A proposito di costo, una composizione del genere? Mimmo, come la scorsa volta, diciamo 10 euro di fiori. Il materiale comunque, come diceva il mio maestro quando abbiamo fatto i corsi, il verde lo si può trovare dappertutto. Certo, ma appunto per mettere il verde come base c'è bisogno di un tipo specifico di verde oppure uno, quello che trova, lo può mettere come base? C'è una specificità oppure uno a fantasia può trovare qualcosa anche a costo zero? Certo, ci sono diversi tipi di verdi che si possono trovare, diciamo, nei campi e in base allo stile che noi vogliamo dare alla composizione si utilizza, diciamo, il giusto verde. Sì. Ad esempio, quando arriverà Natale utilizzeremo la bete, adesso siamo in autunno. Vedi che ti stai condannando da solo, perché tu a Natale devi tornare, mi raccomando. Stiamo utilizzando del verde, diciamo, autunnale, tipo il faggio, l'eucalipto. Sì, perché quel faggio mi ricorda, non so molto, non so se voi anche a casa vedendo questa composizione, ricorda molto, non so, le castagne. Quindi dà proprio di autunno questo colore, la forma di questa foglia. Suor Rosa, vogliamo ricordare un passaggio che risale all'altra volta, cioè abbiamo parlato dell'importanza della liturgia come lode a Dio creatore di tutto quello che c'è, per cui non solo i fiori, ma anche i frutti, per cui tutto quello che ha creato celebra la grandezza di Dio. Sì, entra nella liturgia, perché in fondo è tutto dono di Dio, come i frutti della terra promessa, ma ogni frutto è dono dell'amore di Dio e anche tutto ciò che è creato. Quindi la creatura accoglie questo dono e glielo ripresenta a Dio. Ed è anche, appunto, proprio perché nella celebrazione liturgica noi celebriamo un incontro, questo incontro tra la creatura e il creatore. Quindi tutto ciò che è stato creato da Dio fa parte di, cioè è un dono per noi, che ci ha affidato, ci chiede di custodirlo, ma noi lo accogliamo e glielo ridoniamo. Quindi anche questo ci richiama l'importanza anche nel, un elemento che possiamo prendere come spunto anche per il dialogo, l'importanza di accogliere l'altro così come si presenta a noi. Quindi, cioè nella relazione, come con Dio, anche con qualsiasi persona, è importante porsi in atteggiamento accogliente. Mi piace quello che diceva il Vescovo, degli spazi vuoti, no? L'importanza di creare spazi vuoti, quindi spazi accoglienti, perché non ci potrà mai essere un vero dialogo senza la disponibilità ad accogliere l'altro senza difese, nell'umiltà, nella verità di quello che siamo. E questo poi crea anche il dialogo. E anche con Dio, no? Noi accogliendo il suo dono glielo ripresentiamo e ci ripresentiamo a Lui insieme a tutta la creazione, proprio per entrare in dialogo con Lui. Ma è Lui che vuole entrare in dialogo con noi. Noi possiamo solo dire il nostro sì, ma tutto parte dal suo desiderio di appunto farsi vicino e prossimo, no? Ed è un po' quello che in fondo ci chiede anche questo sinodo, di saperci fare compagni di strada con quanti incontriamo, non rimanere chiusi all'interno delle nostre chiese, ma imparare a camminare il sinodo, appunto questo camminare insieme, no? E imparare, è qualcosa che bisogna anche imparare, perché non è facile camminare insieme, c'è chi corre di più, c'è chi corre di meno, c'è chi ha altri problemi di vario genere. Quindi è importante riuscire a tenere lo stesso passo e farsi compagni di strada, anche nella fatica del cammino, perché non sempre è facile camminare, però è un esercizio, è qualcosa che si impara. Il nostro Gianvito sta sgombrando la tavola e magari se vogliamo mettere anche al centro questa composizione che è stata ultimata ed è una vera e propria celebrazione, è un trionfo di bellezza, dove al centro di questa, sul rosa, c'è il melograno e tutto intorno c'è questo trionfo di fiori, quasi a dire che la Chiesa tutta canta la gloria di Dio. Quella gerbera gialla con quel suo colore è meravigliosa, proprio perché è un po' il colore della gioia. Vogliamo concludere così, sul rosa? Con la gioia, la gioia, sì, la gioia appunto dell'incontro, la gioia di sentirsi amati da un Dio che non ha risparmiato nulla per noi, come appunto ci ricorda anche il melograno come simbolo della passione, passione che sia l'amore, cioè passione come la intendiamo appunto la via crucis, non ci fa pensare, ma la passione che è proprio la passione con cui Dio ci ama fino a dare tutto se stesso. Di un cuore che batte, per amore. Già Vito, in 50 secondi dici da capo il nome di tutti i fiori che circondano il melograno. Allora, pennisetum, faggio, melograno, lisianthus, gerbera, eucalipto, statice e ci sono anche delle bacche rosse. Dice che sarebbero i settembrini. Quale? Questa? I semprevivi. I semprevivi, ah vedi? E allora, avete segnato? Mi raccomando. Allora, noi andiamo in una breve pausa pubblicitaria perché entreremo nel vivo di questo dialogo, di questo sinodo e faremo anche tanti altri incontri. Ringrazio Sor Rosa, ringrazio Gian Vito e noi ci vediamo prossimamente, ve lo dico subito, perché parleremo di crisantemi che non sono fiori pesanti perché ci ricordano solo la morte, ma soprattutto perché sono un inno alla vita, ma di questo ne parleremo prossimamente. Adesso pubblicità e poi ritorniamo in studio. Restate con me a tra poco. E allora, prima di arrivare al nostro Don Leonardo che ci offrirà la sua testimonianza molto forte, molto toccante, voglio salutare i miei carissimi ospiti con un saluto carico di gratitudine. Grazie perché oggi voi offrirete, non solo a me, ma a tutto il pubblico di Convoi Insieme nella Fede, uno spaccato della vostra vita perché voi sembrate icone, irraggiungibili, ma non tutti sanno che dietro ciascuno di voi c'è un vissuto, c'è una storia, talvolta anche c'è la sofferenza e perché no anche la sofferenza della ricerca di Dio. E allora benvenuta lì a Cellammare, a Dino Loiacono, a Maria Poliseno, a Renzo De Andri e a Lucia Coppola. Grazie ancora e allora passiamo dall'altra parte dello studio perché do il benvenuto a Don Leonardo Pinnelli della parrocchia Madonna di Pompei in Andria. E allora Don Leonardo, ecco, la tua testimonianza credo che ci apre verso un orizzonte a cui spesso noi dovremmo far riferimento perché questo ci fa comprendere quanto sia importante la donazione degli organi e noi ne dovremmo anche parlare più spesso, credo anche con più serenità perché donare significa veramente vivere un estremo gesto di amore, quasi quasi come la piccola vedova che ha donato tutto quello che aveva. Donare tutto se stesso anche in certe condizioni è veramente sinonimo di grande generosità. A te la parola Don, grazie. Grazie Don Mimmo. Sì, io parlo in quanto trapiantato, trapiantato di cuore. Hai citato poc'anzi anche il tema della sofferenza che per me, io dico sempre, è una compagna di viaggio. Forse è l'amica del cuore perché come ogni amico del cuore, amica del cuore, se è una vera amica ti dice la verità di chi sei e smonta ogni orizzonte, ogni progetto e quant'altro. Quando ti confronti con la sofferenza veramente fai conti con te stesso, ti fa crescere, ti fa veramente maturare alcune scelte ed è vera, non ti tradisce, è sincera e veramente dipinge la nostra vita con tinte forti. Sono nato cardiopatico, quindi all'inizio ho dovuto subire due interventi, poi all'età di 16 anni ho subito il primo trapianto e poi all'età tre anni fa esattamente, a causa di un infarto, mi sono ritrovato ancora una volta sul letto di ospedale e lì mi hanno rimesso nuovamente in attesa, senza speranza. Attenzione, perché dicevo tra me e me, ho già ricevuto un organo, sicuramente non spenderanno ancora una volta nel donarmi un altro organo. Arrivai in una condizione anche di quasi non c'è più niente da fare, poi ad un certo punto le cose cambiarono e nel dicembre del 2018 ricevo ancora una volta un cuore nuovo. È da lì che poi contrai un debito, un debito forte, un debito con la vita, un debito con l'amore, un debito forse anche con te stesso. È allora lì che sei lì a spenderti per osannare la bellezza della vita in tutte le sue parti. E io dico molte volte, sì, è vero, la sofferenza è stata dura, ma vera, giusta ed è anche, se vogliamo, un inno alla vita, perché ti fa ricercare quella dimensione vera di te stesso per l'altro. Questa è la cosa più bella. Io credo che in tanti si stanno anche chiedendo come un prete vive anche la stessa attesa nel momento in cui la sofferenza raggiunge la sua massima espressione, perché tanti pensano che magari un prete è un essere già, tra virgolette, formato a un certo tipo di percorso e invece tu in giovane età ti sei trovato a dover subire un doppio trapianto e quindi questa attesa, come l'hai vissuta come uomo e come prete? Il primo trapianto l'ho vissuto con la sana incoscienza adolescenziale. Sapevo di dover fare un intervento semplice, ma non avevo preso coscienza di quello che poi sarebbe successo nella mia vita. Il secondo trapianto invece mi ha fatto interrogare tantissimo e in profondità. Se dovessi, no, lo faccio, vado a parafrasare il Vangelo di domenica prossima. Due monete, per me le due monete sono state sì la fede, ma non una fede se mi fai questo poi ti prometto questo. Attenzione. Ma proprio una sana fiducia in Dio sapendo che lui era con me, al di là dell'esito, al di là dell'esito. Infatti io dissi pure sono pronto perché era giusto anche dire questo, sarei stato un ipocrita a dire che non so delle mie condizioni. L'altra moneta era quella della fiducia nella scienza, nella fiducia dei medici, perché non è poca cosa. Sì, la fede è ok, ma bisogna anche collaborare, bisogna essere anche protagonisti nella sofferenza. Diciamo che fede e scienza si danno la mano. Devono. Devono, devono. Sotto certi aspetti sì. Don Leonardo, quando si parla del cuore, in modo particolare per un sacerdote, il riferimento ovviamente dal punto di vista sacerdotale è appunto quello del cuore di Cristo, perché ogni sacerdote deve incarnare il cuore di Cristo per essere icona del buon pastore, icona della sua infinita misericordia. Ecco, nel tuo caso, come lo hai configurato il tuo cuore? Come lo hai contestualizzato? Io dico sempre come l'ho allenato, visto che è un muscolo, come l'ho anche educato, perché comunque su questo sono i due parametri forti. Il primo, dobbiamo dire subito che è un cuore di carne, anche il sacerdote ha un cuore di carne e quindi su questo è stato educato in primis in una chiesa domestica, che è la mia famiglia, la mia comunità parrocchiale, la mia diocesi, i miei confratelli, la bellezza della gente, su questo sono sereno. Però è anche un cuore sapiente. Noi sacerdoti ci dobbiamo ricordare che siamo immagine vente del Cristo e questo lo dobbiamo ricordare a tutti e onde evitare poi scandali, in quanto giustamente siamo interpellati in prima persona a mostrare il volto misericordioso, quindi attenzione sotto proprio tanti punti di vista. E poi il terzo punto è un cuore misericordioso dove noi dobbiamo cercare di fare spazio nel nostro cuore, nella nostra vita per l'altro. Noi dobbiamo ricordarci che tutto ciò che ci viene affidato, tutti quanti quelli che noi incontriamo sono dono di Dio. Questa è una cosa molto importante ed è per questo che il cuore di un sacerdote ha bisogno quotidianamente di essere educato, allenato e lo possiamo fare con la preghiera ma anche con delle relazioni vere e sincere. Con l'inizio del sinodo si è parlato molto di creare, soprattutto in questo momento particolare della Chiesa, uno spazio vuoto non come assenza ma come la possibilità di poter accogliere qualcuno, qualcosa in particolare. Forse è a questo che fai riferimento? Sì, io penso che qualche volta il silenzio faccia bene, sotto tanti punti di vista. Dico questo perché sono reduci anche di un pellegrinaggio fatto alla Madonna del Silenzio nella Diocesi di Avezzano. E mentre ci spiegavano questa bellissima icona della Madonna del Silenzio, il sacerdote, il frate che ci ha riportato poi la descrizione dell'icona, ha portato la testimonianza di una bambina. Dice forse se la Madonna ci chiede silenzio è perché suo figlio deve parlare. Per chi non la conosce riesce a descriverla verbalmente giusto per le caratteristiche iconografiche è un'icona dove la mano sinistra ti chiede di fermarti e nello stesso tempo la mano destra è posta davanti alle sue labbra con l'indice che indica su il cielo, indica l'orizzonte. È una bellissima icona, la rilancio. Ci chiede di fare silenzio a volte perché suo figlio ci deve parlare, ci chiede di fare silenzio perché forse dobbiamo anche ascoltarci. E quindi anche in ambito della donazione in ambito del trapianto anche il silenzio di chi ha donato, anche il silenzio delle famiglie che hanno donato. Molte volte passiamo noi come eroi che abbiamo vissuto il trapianto in prima persona ma io sposto sempre l'attenzione anche alle famiglie che hanno donato perché è lì che c'è il grande coraggio. Tu hai saputo chi ti ha donato? No, la legge italiana lo vieta. Non hai mai avuto la curiosità di sapere. È vero che lo porti con te quel cuore per cui voglio dire un cuore che sicuramente... La curiosità c'è sempre però rispetto anche il gesto in sé in quanto in una donazione anonima. No, non lo so. Infattivamente non lo so. Però è chiaro che infatti io viaggio sempre con un noi non per un egoismo o per plurale maestà ma perché è un noi con il mio donatore o con... Non ti nascondo che la sera quando mi addormento ogni tanto ascolto e penso alla famiglia perché non puoi rimanere indifferente. Celebrare l'eucaristia per i miei due donatori perché uno è l'altro. È chiaro che quando arriva un Natale, una Pasqua per me è un sorriso, per loro è sempre una ferita ancora aperta. Ecco, la preghiera perché ci credo. Chiedo che possano incontrare gente che gli dia veramente la consolazione. Se poi un giorno dovessi incontrare queste famiglie, gli permetterei di ascoltare ancora una volta il battito del loro caro perché non bisogna essere gelosi, anzi bisogna condividerlo. Questo sì. Don Leonardo, quando ti emozioni e ti batte forte il cuore, cosa pensi? Penso a tante cose. Questa non era in programma, questa domanda. Cosa penso? Penso che con me ho l'oro, o Dio, ma con me ho la forza di vivere. Questo sì. Non ho paura. E allora Don Leonardo, rimani ancora qua perché abbiamo la prima testimonianza di un'attrice, di un'artista, una vostra collega, diciamo così, che è Anna Maria Vivacqua. Perché dico questo perché vorrei che magari la conclusione la offrissi tu. Ascoltiamo il suo video saluto perché poi fa un riferimento ad un testo molto bello e anche abbastanza conosciuto. Guardiamo insieme e saluto. Approfitto per salutare e ringraziare Anna Maria Vivacqua. Ciao Don Mimmo, ciao a tutti i miei colleghi presenti in studio, ciao a tutti quanti i telespettatori. Caro Don Mimmo, come ti avevo anticipato, purtroppo non posso essere con voi. per impegni lavorativi improrogabili. Però dopo la nostra chiacchierata telefonica dove mi hai spiegato qual è il tema della puntata di oggi, cioè il rapporto dell'artista uomo con la fede, ho avuto modo di riflettere tantissimo su questo e mi sono venute in mente delle conclusioni stimolanti. Quindi ho pensato bene di fare questo video e di mandartelo per condividere con te e con voi quello che è il mio pensiero. In questo momento il mio rapporto con la fede è piuttosto altalenante, un po' come sono tutti i rapporti della nostra vita. Una volta ci si sta bene, si sta bene insieme, un'altra volta un po' meno, si litiga, si discute, ci si ritrova. Ecco, io sto un po' arragata in questo momento con il Signore, però quando sono nei momenti tristi, difficili, quando ho bisogno di sostegno, io prego Lui, prego Gesù Cristo, prego la Madonna. Quindi questo mi fa pensare che sotto sotto il mio legame con Dio è molto forte. D'altronde ho avuto un'educazione religiosa. I miei anni, gli anni dell'adolescenza, li ho partito trascorsi con le suore della chiesa di San Giuseppe a Bari e li ricordo quegli anni molto belli. Sono stata davvero bene, ho imparato tanto e a tal punto ti confesso, Don Mimmo, che per un periodo ho anche accarezzato l'idea di farmi suora. Pensiero che poi si è perso così. Quindi ero molto legata, avevo molta fede. Poi quando si diventa più grandi, si cominciamo a avere i primi passi nel mondo da soli, purtroppo ci si perde. Ecco, questo è quello che è successo a me. Mi sono un attimino persa. Ho perso quella fede che avevo, ho perso quel rapporto bellissimo che avevo con il Signore. Ma sta pensato pure per Lui, perché sono sicura che presto questo rapporto lo riprenderemo. Perché, ripeto, dentro di me c'è. Mi piace, per concludere così vi saluto, ricordare e leggere spesso quel pensiero di un anonimo brasiliano che racconta la storia di un uomo che alla fine della sua vita guarda le sue spalle per vedere i giorni passati e si rivede su questa spiaggia dove ci sono sempre quattro orme. In alcuni punti queste orme diventano due. E quindi Lui si chiede come mai queste due orme coincidono con i periodi più difficili della sua vita. Dice, è possibile, Signore, che Tu proprio in quei momenti in cui io ho bisogno di Te e del Tuo sostegno mi hai abbandonato. In realtà la risposta del Signore è bellissima, guardami, si arrezzicano le carni. Perché Lui dice, in quei giorni, mentre negli altri io camminavo al tuo fianco, in quei giorni io ti portavo in braccio. E questa è una cosa bellissima, perché vuol dire che il Signore non ci abbandona mai. Anzi, nei momenti più difficili, Lui ci porta in braccio. Che meraviglia, grazie Anna Maria, Dio alla tenerezza di una madre. Don Leonardo, vogliamo concludere con questa bellissima immagine, questo tuo intervento? Mi piace l'idea dell'anonimo brasiliano, ma soprattutto mi piace concludere dicendo che molte volte, sì è vero, dal punto di vista umano siamo tentati ad arrabbiarci con Dio, a sentirci soli. Ma so che le cose di Dio, e noi siamo di Dio, Dio se le riprende, sa come rintracciarci ancora una volta. E io dico che invece di arrabbiarci ci dobbiamo arrendere, arrendere alla vita. Se ci arrendissimo ogni giorno alla vita, allora le cose andrebbero per un posto. Io credo che arrabbiarsi sia anche una forma di preghiera, perché ci si arrabbia sempre con le persone a noi più vicine. Del resto si arrabbia il marito con la moglie, si arrabbia il figlio con la mamma. Voglio dire, arrabbiarsi tra virgolette fa parte di quelle dinamiche umane che caratterizzano il vissuto familiare. Per cui arrabbiarsi con il Signore, secondo me, sia anche, ovviamente con tutto il dovuto rispetto, però faccia parte anche di un sentimento molto forte, quasi di appartenenza. Certo, però personalmente in questa situazione qui io mi ritrovo sempre ad arrendermi alla vita, perché accolgo appunto da parte di Dio non semplicemente il qui e ora, quello che mi sta succedendo, ma cerco sempre di guardare a 360 gradi e quanto io abbia vissuto la sua presenza. Ecco perché io dico, alla fine il Signore ci rintraccia, in qualsiasi esperienza noi facciamo nella nostra vita, ecco che là ci dobbiamo chiedere, ma dov'è, chi è, com'è, perché? Allora, tutte queste domande sono a supporto della nostra crescita. Dio non fa altro se non il nostro bene. Questo è poco ma sicuro e vuole semplicemente il nostro, proprio dal punto di vista umano, per la nostra crescita. In un minuto, Don Leonardo, tu sai che San Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Arse, è patrono dei parroci, è stato un uomo che ha confessato, andava, si può dire, tutta la Francia andava verso questo villaggio di Arse per confessarsi perché in quest'uomo piccolino, minuto, ecco, veniva fuori l'amore misericordioso di Dio e c'è una cappella dove è custodito il suo cuore incorrotto. Quando confessi il tuo cuore, come sviluppa la sua misericordia? Eh, non è facile. Io dico sempre che il sacramento della riconciliazione è una grande responsabilità perché lo sai anche tu, in quel momento Dio obbedisce a noi e quindi hai una grande responsabilità perché se io decido di assolvere in quel caso, però è chiaro che il concetto della compassione va oltre mettendo da parte ogni giudizio ma accogliendo la bellezza di quella vita che mi è di fronte. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Grazie Don Leonardo, grazie davvero di cuore per la sua testimonianza che credo possa puntare i riflettori su una realtà molto importante, molto forte che è quella della donazione perché se non ci fosse stata la generosità dei donatori forse oggi non staremo a parlare con te. E allora, anche il tuo è stato un matrimonio felice, bellissimo, benedetto con la presenza di due figli, un marito molto dedito, attento, tu sempre una donna solare, una donna... mi dicono che sei anche molto brava a fare le orecchiette. Quindi diciamo che sei una persona anche con delle attitudini proprio da mamma, diciamo così. Lavoro, casa, chiesa, perché io anche prima di Michele già mi dedicavo, offrivo il mio servizio al Signore, anch'io catechista. E sì, perché questo è molto importante, perché purtroppo dobbiamo arrivare a quel giorno in cui Michele il 4 dicembre dello scorso anno è venuto a mancare e lì c'è stato il momento in cui hai dovuto consegnare tuo figlio alla misericordia di Dio ma nello stesso tempo sei stata chiamata, tra virgolette, a fare una scelta. Io chiederei alla regia se possiamo vedere, e io ti ringrazio che ci permetti, di poter vedere quanto fosse bello tuo figlio, perché possiamo dire che era anche un po' l'inno alla vita, perché Michele, tu mi racconti che Michele ti stringeva, ti abbracciava, mamma ti voglio bene... Diceva scegliete la vita, diceva scegliete la vita. E a proposito del fatto che tu dici che Michele era bello, io voglio raccontarti quello che è successo un giorno sulla nave di Michele, dove Michele era un marinaio, era un TM della Marina Militare, aveva vinto un concorso ed era felice di quello che faceva. Due giorni prima della tragedia mi ha scritto, ha scritto al papà, a me, al suo fratello, dicendo mamma, papà, mi diverto al lavoro, sono felice. E un giorno ho conosciuto il suo comandante, che mi ha fatto, mi ha detto la cosa più bella che una mamma possa sentirsi dire. Mi ha detto signora complimenti, il suo ragazzo non è solo bello da vedere, il suo ragazzo è bellissimo qui nel cuore. Certo, chi l'ha conosciuto ha avuto modo di incontrare la sua bontà, e quindi una bellezza non solo fatta dal punto di vista esteriore, ma la bellezza del cuore. Quel giorno sono stata la mamma più felice del mondo. Certo, certo. Senti Anna, questo un po' è stato il momento in cui tu, abbracciandoti la croce, credo di un dolore, perché credo che il dolore della perdita di un figlio non abbia nemmeno dal punto di vista lessicale, un termine ben preciso, perché è talmente sconfinato, immenso, e qui mi permetto anche di abbracciare tutti quei genitori che in questo momento ci stanno ascoltando, che ci stanno guardando, e magari hanno vissuto il tuo stesso dolore. Ecco, tu a un certo punto però hai fatto una scelta, perché so anche che nella tragedia erano già pronti anche gli addobbi natalizi, il presepe, e hai voluto che restasse tutto così, perché alla fine il tuo vero Natale, tra virgolette, nella manifestazione della povertà, anche della morte stessa di tuo figlio, tu hai incontrato Gesù bambino. Ho lasciato tutto sotto il consiglio anche del mio parroco, che mi ha trasmesso un po' di tranquillità, un po' di serenità, addolcendomi un po' il cuore, dicendomi di lasciare tutto come stava. Poi il mio primo pensiero è stato ai miei bambini del catechismo, io gli ho scritto e gli ho detto che per un po' di tempo non ci saremmo visti in parrocchia, perché purtroppo Michele era volato in cielo, loro lo conoscevano, Michele ogni tanto faceva capolino durante l'ora... Andava in parrocchia, sì? No, non in parrocchia, durante l'ora di catechismo. Ah, addirittura. Ogni tanto faceva capolino e che stavo, purtroppo Michele era volato in cielo e che io stavo provando lo stesso dolore che aveva provato la nostra mamma celeste e quindi per un po' di tempo non ci saremmo visti. E sinceramente forse mi sono lasciata prendere un po' dal buio, chiaramente, che stavo vivendo. Poi un giorno mi sono detta delle cose brutte, sinceramente, e c'era mio figlio, l'altro, Raffaele, e ho detto voglio andare con Michele. E Raffaele mi ha detto mamma, io ci sono qui ancora con te. Sì, sì, posso capire, posso capire e non voglio assolutamente aprire una ferita che... Però ecco, la storia di speranza che voi mi avete anche trasmesso è proprio questa, cioè che nonostante questo grande dolore, voi avete, e tu in modo particolare, non ti sei presa poi più un lungo tempo di assenza, ma sei andata subito in parrocchia per stare vicino ai tuoi bambini. E la stessa cosa anche per te, Maria. Cioè voi, permettetemi, ecco, mi permetto io di mettere sulla vostra bocca le parole, che avete testimoniato la resurrezione di Gesù, e io mi permetto di dire la mia, dicendo che la vostra testimonianza, credo che si avalsa molto, non solo per i bambini, ma anche per le famiglie, perché la cosa più facile è quella di cadere nella disperazione. E invece voi, abbiamo ancora due minuti appena, ecco, quando parlate, perché è arrivata già la vostra prima Pasqua, per te Maria senza Peppino, per te Anna senza Michele, quando avete parlato della resurrezione, in una parola, che cosa vi è successo dentro? Per me è una grande gioia, perché ho rivisto Lui nella risurrezione, come anche ho visto tanti tanti malati sofferenti, che poi sono andati via, ma li ho visti veramente nella risurrezione. Perché tu, Maria, hai continuato a frequentare questa struttura di accoglienza per malati terminali, dove si offre a queste persone la possibilità, tra virgolette, anche lì dove purtroppo le cure non sono più sufficienti, di fare il grande passo, ecco, con dignità. Anna? Io, invece, speranza. La speranza, quando sto con i miei bambini e parlo loro della risurrezione, io spero di poter piantare nel loro cuore il piccolo granello di senape, che crescerà con loro, man mano che diventeranno più grandi, diventerà prima uno stelo, poi un tronco, e poi un grande albero, l'albero di Dio, che ci abbraccia sia nei momenti di gioia, che nei momenti di bui, proprio come è successo a me. Perché la risurrezione la possiamo vivere anche qui, sulla Terra. Proprio il passaggio, la trasformazione del dolore in gioia. Sì, perché questo è quel dolore che poi ti porta alla gioia, e quindi quel passaggio, ecco, alla risurrezione. Perché è bellissimo. Diciamo, il mio stare vicino ai bambini, trasforma quel dolore in speranza, in gioia. È proprio quello che succederà nella risurrezione. In due secondi, Peppino e Michele, cosa direbbero di voi in questo momento, se vi stessero ascoltando, come noi sappiamo? Io credo che sarebbero contenti. Molto. Peppino sicuro. Sicuro. Io sono sicura che mi... Ti sta stringendo. Sì. Anch'io. Anch'io sono sicuro di questo. Io... Come era sempre lui, abituato a fare. E infatti, io vi ringrazio, perché immagino che sia stato non facile, però io sono convinto che la vostra storia di dolore è anche e soprattutto una storia di speranza. Soprattutto perché questa vostra storia precede poi le storie che tra poco ascolteremo dai nostri giovani. Per cui è veramente un momento in cui abbiamo riflettuto sulla gravità della separazione che viviamo con i nostri cari, però sulla bellezza della speranza della risurrezione. È dura, è dura. Però con quella speranza... Si va avanti. Si va avanti con la risurrezione. Quando sto con i miei giovani, i miei bambini, in loro rivedo il sorriso, gli abbracci, gli occhi di mio figlio. Di Michele. L'arcivescovo, quando è venuto a trovarci in parrocchia, mi ha dato un consiglio. Mi ha detto di, tra virgolette, adottare uno dei miei ragazzi o bambini. Io li adotto tutti, perché è in loro che rivedo Michele. Grazie, grazie. E allora siamo tutti un po' emozionati, però con tanta fiducia e tanta speranza nel cuore. Ci vediamo tra pochissimo dopo questa breve pausa pubblicitaria. A tra poco, perché iniziamo con i nostri giovani. Pubblicità. E tu ci fai vedere adesso una bellezza che non tutti conoscono, perché dovete sapere che Michele ha fatto uscire fuori dalla sua anima una preghiera suonata scendendo nella grotta di Sant'Oronzo a Turi. Per cui vogliamo vivere insieme a Michele questo pellegrinaggio virtuale facendoci guidare dal suono del suo strumento per guardare questa grotta che credo sia una delle cose più belle che abbiamo nella nostra amata Puglia. Guardiamo e seguiamo Michele nel suo percorso. Grazie a tutti. 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 delle tavolette che ruotando danno dei disegni particolari, ovviamente in base a come noi andremo ad inserire i fili. Stessa cosa poi il ricamo, diciamo che un po' tutte le nostre nonne ce lo hanno insegnato e noi abbiamo solo riprodotto quello che è stato il loro sapere. Grazie e ora continuiamo il nostro giro. E caro Don Mimmo, ci troviamo all'interno di questa scena che rappresenta la visitazione a Santa Elisabetta da parte della Vergine Maria. Come vedi in questo presepe vengono raccontate delle fasi che hanno portato alla Santa Notte. E nel percorso del presepe, caro Don Mimmo, troviamo anche dei cibi tipici della tradizione di questo periodo, in questo caso le pettole. Caro Don Mimmo, il percorso entra anche all'interno di antiche corti. Qui ci troviamo nella corte di Lucia, dove da sempre vengono realizzati dei piatti unici della tradizione conversanese, in questo caso le polpette di carne e pane. Caro Don Mimmo, il percorso prosegue e prosegue qui, con uno delle altre, elementi essenziali anche di questo presepe, la castagna. Sì, sì. Dobbiamo sempre sapere e ricordare che la castagna è un prodotto antico, antichissimo, dove i neonati, i bambini, si alimentavano dalle caldarroste. Più che altro le caldarroste, io andando in montagna e chiedendo a persone che abitano lì, gli antichi proprio la caldarrosta la sbucciavano, la tritavano e la mattina la davano ai bambini come oggi diamo i conflex, tutte queste cose qua. E questo è un alimento veramente nutritivo, che noi abbiamo dimenticato questi valori. Grazie. Quindi Don Mimmo, in questo presepe possiamo anche degustare le castagne. Caro Don Mimmo, mi trovo ora con l'assessore alle attività culturali e turismo del Comune di Conversano, la dottoressa Katia Sportelli, che ci parlerà un po' del Natale qui a Conversano. Buonasera a tutti e buonasera Don Mimmo, grazie mille per l'invito. Beh sì, questo Natale è cominciato il 4 di dicembre con l'inaugurazione delle luci di Natale, no? Accendiamo il Natale a Conversano e sta proseguendo con una serie di bellissimi eventi, tra cui ovviamente il presepe vivente medievale e tanti eventi che ovviamente si protrarranno fino al 6 di gennaio. Quindi l'invito a venire qui a Conversano. Assolutamente, venite a Conversano, venite a visitare il nostro centro storico, a godere delle nostre prelibatezze e a vivere con noi gli eventi del Natale. Grazie. Grazie. E il nostro percorso si conclude all'interno della Grotta della Natività. Qui, oltre alla Vergine Maria, a Gesù Bambino, guarda Don Mimmo, questo Gesù Bambino che ci guarda, ecco è un segno di speranza per tutta l'umanità, a San Giuseppe, troviamo anche il direttore artistico di questo presepe medievale, Gabriele Coriano, che ci spiega le motivazioni di questa volontà di fare un balzo nel passato, raccontando della Natività di Nostro Signore. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie, grazie a voi di questa opportunità. Sì, la voglia in realtà come gruppo storico ce l'abbiamo da tanti anni, da tanti anni che avevamo questo desiderio di riprendere un po' quello che è stato il primo presepe di Greccio messo in scena, quindi una vera e propria rievocazione fatta messa in scena da San Francesco d'Assisi a Greccio nel 1223. Questo, diciamo, è un percorso che abbraccia un po' quello che noi già abbiamo cominciato con le Notti della Contea, l'evento che noi portiamo in scena per le strade di Conversano ad agosto. Vogliamo riportare i cittadini di Conversano a riscoprire questi meravigliosi vicoli e lo vogliamo fare come? Attraverso il presepe vivente medievale e attraverso gli antichi mestieri, la natività di queste bellissime coppie che ci stanno veramente rappresentando in maniera stupenda e poi chiaramente c'è l'aspetto tradizionale, l'aspetto religioso che chiaramente sottolineano quello che è il Natale perché ricordiamo che il Natale è una festa religiosa. Grazie Gabriele e con questo, Don Mimmo, un caro saluto a tutti voi che ci avete seguito in questo percorso all'interno del Centro Storico di Conversano. Ancora buon Natale a tutti voi. Buon pomeriggio Don Mimmo, buon pomeriggio ai tuoi ospiti, a tutti i colleghi in studio di Antena Sud, soprattutto buon Natale. Sono in compagnia del Vescovo della Diogesi di Uggento Santa Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuri. Nonostante il giorno di festa, di Natale, i tanti impegni con le celebrazioni, ha ritagliato un po' di tempo per augurare un buon Natale anche ai telespettatori di Antena Sud. Anch'io saluto tutti i telespettatori, saluto anche Don Mimmo. Mi fa piacere poterlo rivedere anche in questo momento così festoso. Li auguro a lui innanzitutto una buona riuscita di questo suo impegno che è veramente un impegno di evangelizzazione. Colgo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale a tutti. La scritta che vedete qui sopra è quella che cantiamo anche nella liturgia. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a tutti gli uomini. Sono le parole significative. Se devo dire un augurio particolare che vale per tutti, direi che questo Natale sia un Natale saggio, cioè capace per tutti quanti noi, dai governanti a tutti coloro che hanno le responsabilità, a tutti coloro che hanno un impegno, diciamo, di autorità, a trovare le vie giuste, a trovare le scelte opportune. Siamo in un momento difficile, la pandemia ancora continua, ci sono difficoltà sul piano economico, sociale, sul piano anche dell'andamento scolastico. Ecco, io chiedo al Signore insieme con voi che impariamo la saggezza che viene da Cristo, che la significa anche ritrovare le vie giuste, le scelte giuste da fare con condivisione per poter uscire da questa situazione pandemica e rivivere la nostra vita nella gioia. È stato un anno particolare, ci apprestiamo a vivere il 2022 anche nel segno della PNRR, questi soldi ci auguriamo che arrivino in fretta e che possano essere presto impegnati, ma nel frattempo la Chiesa sta giocando, lo ha fatto in piena pandemia, sta continuando a farlo un ruolo fondamentale, anche grazie a quelle istituzioni come la Caritas, la Chiesa sta facendo tanto. Sì, direi innanzitutto sul piano appunto della Caritas, che significa non soltanto l'aiuto materiale alle persone, anche questo, perché c'è gente diciamo che ha bisogno anche del necessario, ma direi anche sul senso della vicinanza, della prossimità, che poi è appunto il messaggio del Natale, Dio che si fa vicino a noi, noi che ci facciamo vicino ai nostri fratelli, soprattutto a quelli più bisognosi. Non voglio che si dimentichi poi dopo anche un altro aspetto, la vicinanza nei riguardi dei migranti, proprio qui all'Euca in questi ultimi giorni abbiamo avuto diversi sbarchi e naturalmente è necessario, ecco, in qualche modo farsi accoglienti per queste persone che fuggono da situazioni di difficoltà. Devo anche in questo momento, profitto in questo momento, per ringraziare tutti coloro che si mettono a disposizione per accogliere e per dare i primi aiuti ai migranti che sbarcano qui nelle nostre coste. In un mese quasi mille abbiamo visto al lavoro la Croce Rossa Italiana e la Caritas diocesana di questa diocesi. C'è stato anche un momento importante, The Last 20, che ha organizzato proprio la sua diocesi. Sì, abbiamo tenuto questo ultimo incontro di questo tema che si chiama The Last 20, cioè significa gli ultimi 20 paesi del mondo. Come c'è stato il G20, quello dei paesi più industrializzati, qui nella nostra diocesi è tenuto quest'ultimo appuntamento proprio di quelli che sono i paesi più poveri. Non per creare un conflitto, ma semplicemente per far emergere la necessità che gli uni e gli altri si possano incontrare e così si possano risolvere delle situazioni di difficoltà che sono ancora presenti in tante parti del mondo. E con grande gioia da Ugento ringrazio ancora Monsignor Avvito Angiuli. Buon Natale a lei, a tutta la sua diocesi e ancora Buon Natale a voi che siete in studio e telespettatori di Antenna Sud. Buon Natale ancora, caro Don Mimmo. Buon Natale ai tuoi presenti, ai coloro che sono presenti in studio e a tutti i telespettatori. Buon Natale. Che grande emozione, vero? L'avevo detto all'inizio della puntata. Ogni incontro, ogni persona è stata veramente un dono e mi auguro che sia stato anche per voi e che vi abbia risollevato, il cuore, questo percorso. Noi ovviamente stiamo lavorando già per le prossime puntate, per cui vi do appuntamento a sabato 8 gennaio, sempre alle ore 15, con voi insieme nella fede. Ecco, e nell'augurarvi a nome mio e di tutto lo staff della grande famiglia di Antenna Sud un buon anno vi voglio lasciare con questa frase che mi è arrivata proprio adesso di madre Teresa di Calcutta che dice così, non ci servono armi e bombe per portare la pace, tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono amore e compassione. E allora siate gioiosi perché il Signore è sempre con voi. Scrivete a con voi chiocciolantennasud.com perché vogliamo avervi sempre qui partecipi delle vostre tradizioni, di quello che vi sta più a cuore e soprattutto delle vostre intenzioni di preghiera. Buon anno a tutti, a presto, ci vediamo sabato. Grazie a tutti, a presto, a presto, a presto.